eccomi qua eccomi qua esordisco sono beppe severgnini ci parlo da crema con un paio d'occhiali adatti a vedere quello che vi iscriverete se non dovrei indossare normalmente questi anzi lo farò all'inizio e vi parto con una banalità voi direte non è raro da parte di un giornalista io comunque partirò con una banalità e che mi spiace moltissimo non essere a torino con voi al circolo dei lettori ci tenevo molto per tanti motivi alcuni magari verranno fuori anche nel corso della nostra chiacchierata di oggi ma parliamo del nostro meglio un po di pratica televisiva ce l'ho quindi cerca non sono intimidito da quella lucina lì sopra sono molto contento di essere con voi perché di fatto sono con voi esattamente come quando in televisione parli sai che c'è qualcuno dall'altra parte cosa facciamo oggi oggi presentiamo un libro un libro che si chiama neo italiani e libera questo e io avevo nella pancia da da 15 anni perché la gestazione dei libri non è come quella dei bambini che sono nove mesi a proposito saluto adrian che appena è venuto al mondo ma su chi è adrian torinese lo spiego dopo la gestazione dei libri non è quella dei bambini io perché dico 15 anni perché io ho scritto la testa degli italiani nel 2005 che è il libro che mi ha portato forse più successo all'estero più fortuna è stato tradotto in tanti paesi in particolare in gran bretta in negli stati uniti in germania è andato molto molto bene in stati uniti in parti allora io volevo rifare il ritratto nazionale quel libro tradotto in quattordici lingue ha detto e ora di aggiornare sono successe troppe cose dal 2005 pensate è arrivato la crisi del finanziaria berlusconi va su berlusconi va giù la crisi economica di cui non siamo usciti una nuova generazione quella di millennia si è arrivata nel mondo del lavoro con tutte le difficoltà poveretti che hanno incontrato è arrivato la lega al movimento cinque stelle quanti cambiamenti abbiamo avuto e sapevo di volerlo scrivere ma non trovavo il tempo perché nel frattempo ho scritto un libro su berlusconi un libro sulla lingua italiana un libro sui viaggi in treno un libro italiani domani per la nuova generazione e c'è un'autobiografia italiani si rimane e la motivazione cominciavo mollare l'italia ha veramente bisogno del beppe di turno che scriva un nuovo ritratto nazionale la risposta era forse no e scrivevo lasciavo scrivevo e poi è arrivato il 2020 è arrivata la pandemia e che mi ha dato il tempo di diciamo chiudere il libro che avevo già cominciato e ripeto avanti indietro e la motivazione questa è la cosa più importante la motivazione cosa vuol dire ho pensato ehi forse è il momento in cui uno scrittore può rendersi utile rendersi utile vuol dire vuol dire questo vuol dire fare qualcosa che serve agli altri se conoscete uno scrittore che scrive un libro su se stesso no è non si può fare eh perché se vuoi scrivere un libro su se stesso non hai bisogno di andare da un editore fartelo pubblicare andare in libreria arrivare in questa volta in video al circo del lettore di torino eh lo fai perché speri e pensi di poter raccontare qualcosa che sia utile anche per i romanzieri è così utile vuol dire che che suggerisca che consoli che faccia sorridere o che faccia commuovere o che faccia pensare che illumini una parte del mondo in penombra ecco quello che deve fare uno scrittore qualunque scrittore e e allora mi sono messo e ho capito che la pandemia è un riflettore formidabile è come anzi un riflettore è una lente di ingrandimento tu capisci di più delle persone tutti noi abbiamo capito di più delle persone intorno a noi i nostri familiari i nostri amici dei nostri amori delle relazioni appunto chi è scomparso per tre mesi fra marzo e maggio forse non era proprio una persona a cui tenevamo molto e quella persona non teneva a noi delle organizzazioni dal circolo dei lettori al corriere della sera dalla dalla regione Lombardia alla protezione civile le organizzazioni davanti in una crisi si rivelano per quello che sono si vedono le loro debolezze ma anche la loro forza la loro resilienza e le nazioni e la mia introduzione è quasi finita le nazioni vuol dire si capisce si capisce di cosa sia di che pasta siamo fatti io sono rimasto non sorpreso perché me l'aspettavo dalla reazione che abbiamo avuto in primavera davanti al lockdown sapevo che davanti all'emergenza noi italiani siamo molto bravi lo siamo sempre stati datoci un'emergenza siamo a posto abbiamo un problema dopo con l'organizzazione con l'amministrazione e con la programmazione ed è irregolarmente quello che è accaduto purtroppo quest'estate noi abbiamo avuto due mesi di preoccupazione gennaio e febbraio due mesi di reclusione marzo e aprile due mesi di di illusione maggio e giugno due mesi di confusione luglio agosto e adesso purtroppo da settembre in poi era il tempo settembre ottobre della riorganizzazione siamo di nuovo in questa situazione quindi il mio libro neo italiani è un libro attualità io avrei sperato che non lo fosse io non voglio scrivere il libro attualità mi trovo con un libro di grande attualità ma non è questo è importantissimo un libro sul lockdown è un libro cui lockdown ha fornito il tempo lo ripeto ancora una volta è la motivazione ma non è un libro sul lockdown e sulla pandemia è il libro sull'italia che io ho visto in questi anni e che la pandemia mi ha aiutato a capire meglio e si muove intorno a 50 motivi 50 motivi per essere italiani adesso se mi danno una mano chiederò ad alice li vedrete sullo schermo al posto mio quindi prima 25 li vedete qui aspetta che ne leggo qualcuno col cambio di occhiali necessario perché uno perché quando tutti si aspettano che ci agitiamo restiamo calmi due perché siamo fragili quando pensiamo ad essere forti e viceversa tre perché sappiamo essere seri ma lo ammettiamo malvolentieri eccetera eccetera adesso vediamo gli altri 25 quindi dal 26 al 50 eccoli qui e 26 perché molti ci criticano ma quasi tutti ci copiano 27 perché chiediamo lo smart working ma ci piace stare con gli altri 28 perché conosciamo il confine fra gentilezza e molestia e so che questo ha fatto e farà discutere magari 29 perché le piccole chiese sono meglio di certi difensori della fede e questo l'ho scritto prima delle vicende di di del dei crede cardinali romani e degli immobili di londra 31 perché abbiamo la scuola pubblica l'ultimo frullatore nazionale 32 perché abbiamo gli asili e abbiamo maria montessori 33 perché abbiamo il servizio sanitario nazionale e i medici di famiglia e andiamo avanti il quale vi leggo gli ultimi tre eh 48 perché ogni tanto ci cadono le braccia ma poi le tiriamo su 49 perché siamo quello che gli altri vorrebbero essere e non osano 50 perché sorridiamo nonostante tutto adesso possiamo se li avete se ne avete memorizzato qualcuno ogni tanto li torneremo a farli vedere possiamo levarli in questo adesso ecco torneremo a fare vedere i 50 motivi perché il streamer lo consente quindi sui commenti se qualcuno di voi vuole scrivere eh qualcosa vi sono già arrivato 14 commenti e visto un sacco di buonasera Roberta, Roberta, Dotta, Loredana, Arnone, Piera, Carla, Ferranti, Farah, Trotta, Graziella, Iovine, grazie a voi e a tutti gli altri siete già numerosissimi se volete citare un motivo anche se non vi ricordate poi vi trovo io il numero eh oppure adesso facciamo un altro passaggio di riassunto nella nei commenti io li vedo voi dite anche solo il numero così è una forma di jukebox vi piace book jukebox abbiamo inventato la forma di jukebox come jukebox si metteva la moneta ma qua è gratis e si sentiva la canzone che voleva che si voleva così voi è inutile che vi parli di di chiese se volete parlare di medici che vi parli di serietà degli italiani se volete sentire parlare di confine fra gentilezza e molestia quindi scegliete voi quindi io sono qui e siccome il libro l'ho scritto davvero sono preparato ho studiato e sono pronto al al adesso vediamo se c'è qualche allora Graziella Iovine eh quando io dico è in fondo adesso numero 49 se può ecco eh vedete ha messo solo così lo abbiamo messo sullo schermo mi piace questo gioco Graziella 49 io il libro l'ho qui tra l'altro nel risguardi di copertina ci sono i motivi all'inizio il 25 e alla fine gli altri 25 Graziella vuole il 49 che è perché siamo quello che gli altri vorrebbero essere e non osano è così eh è la nostra fortuna e la nostra dannazione come italiani noi italiani siamo siamo la eh un po' la tentazione del mondo abbiamo un rapporto con tante cose che è il rapporto fra di noi col vino con le altre persone con i luoghi estremamente naturale che un in molte culture più controllate della nostra penso al nord Europa penso agli Stati Uniti penso alla Gran Bretagna eh invidiano un po' noi siamo siamo un po' la tentazione del mondo e alle tentazioni bisogna resistere lo si capisce quando gli stranieri arrivano da noi non so se accade anche a Torino ma credo proprio di sì io vedo amici inglesi per esempio quanti ne ho avuti a casa io ho vissuto a lungo in Inghilterra abbiamo io e Hortensia tanti amici inglesi arrivano e tu li vedi che hanno proprio un cambiamento li cambia quasi il colore della pelle in Inghilterra per diventare spontanea hanno bisogno di un gin and tonic forse due in Italia li vedi che cominciano a prendere contatto con le proprie emozioni e e questo li fa un sacco bene qualcuno esagera nella storia d'Italia se leggete le storie del Grand Tour questa disini questo questa fine delle inibizioni arrivando in Italia provocava anche una serie di problemi però io io ci credo al contabile di Rotterdam che arriva si mette in mutande va nella fontagna di Trevi queste robe sono successe adesso magari un po' meno e quest'idea cioè che l'Italia sia una sorta di di congresso mondiale delle emozioni la palestra consentita delle sensazioni adesso le palestre purtroppo sono chiuse ma l'Italia in questo non chiude mai è quello che io volevo dire col motivo 49 perché noi siamo quelli che gli altri vorrebbero essere aggiungo almeno talvolta e non osano insisto questi sono i 40 motivi 50 motivi sono i nostri punti forti se noi non ci concentriamo sui nostri punti forti e non ne prendiamo coscienza non lavoriamo sui punti deboli i punti deboli ce ne sono una valanga verranno fuori anche oggi io non sono non penso seriamente che siamo un paese perfetto abbiamo anche perché i paesi perfetti sono noiosissimi e non esistono qualcuno ci prova infatti è noioso ma siamo un paese che ha alcune alcune grandi risorse se no in un momento come questo così difficile non capiamo che lì dobbiamo costruire è un guaio perché ci demoralizziamo io voglio che questo libro sia non un libro superficiale non lo è vi giuro ma un libro rassicurante anche quello che sta accadendo in questi giorni ma non avete la sensazione che l'allarme esiste ma esiste anche l'allarmismo non puoi scaricare lo dico la giornalista che lavora sui giornali in televisione con queste formule è ogni tanto alla radio sui social quindi la colpa io sono corresponsabile ma secondo me stiamo scaricando un'ansia eccessiva l'allarme è una cosa l'allarmismo è un'altra se diventiamo ansiogeni è un problema perché poi la gente si demoralizza e non bisogna spaventare bisogna spiegare poi vediamo anche secondo me com'è andiamo avanti allora vediamo Loredana Arnone Loredana Arnone 28 chiede grazie Francesca Vittani che mi dice bellissima definizione il book giubox Francesca vuole il numero 28 perché conosciamo il confine tra gentilezza e molestia sapevo che saremmo arrivati qua parliamo di rapporti fra uomini e donne in particolare nel mondo del lavoro il confine tra gentilezza e molestia esiste si può essere gentili si può essere affettuosi si può essere anche è legittimo anche un complimento c'è un confine tra questo e la molestia molto chiaro che le donne perché voi donne percepite immediatamente e e molti uomini magari con meno rapidità e meno velocità e meno sensibilità ma conoscono quindi quando dico conosciamo il confine tra gentilezza e molestia non sto dicendo che purtroppo alcuni uomini lo conoscono e lo oltrepassano parlavo con una giovane giovanissima collega che conosco per motivi diversi e mi raccontava dei toni e delle cose che dicono in una redazione una giovane giornalista ancora adesso nell'autunno del 2020 in america perdi il lavoro per questo gli americani fanno bene gli americani con me to hanno fatto molto bene le donne americane a dire stop e le donne italiane che hanno detto stop hanno fatto altrettanto bene ma in america hanno fatto tre passi due passi di troppo io ho insegnato negli stati uniti si vive con questa ansia continua non soltanto arriva una studente o una studentessa perché non conoscendo i miei gusti sessuali e le mie in america mi hanno dato un un le istruzioni se arriva uno studente o una studentessa quindi porta aperta mai sfiorarlo sfiorarla per nessun motivo il contatto con gli occhi le cose allora bisogna anche avere buon senso ecco gli italiani in questa materia hanno buon senso uomini e donna la grande maggioranza di noi ha buon senso sa benissimo che tra due colleghi che si stimano affettuosi che si conoscono lui può dire a lei oggi sei veramente ti trovo in grandissima forma pure ma che bella che sei soprattutto se non è il suo capo se è il suo capo è meglio che non lo dica e lei può dire a lui la stessa cosa il giorno dopo e ti vedo in gran forma sei diventato proprio figo non è vietato e noi in italia sappiamo ancora farlo e non facciamo gli ipocriti succede dovunque e per fortuna in america questa cosa non succede più perché la gente ha paura perché noi conosciamo il confine tra gentilezze molesti e questo è da mettere tra i più ok se non siete d'accordo potete dirlo potete prendere il libro o non prendere il libro e lamentarvi andiamo avanti barbara da gapiti dice le è piaciuto il congresso mondiale delle emozioni grazie e a francesca vittani le è piaciuto bellissima la definizione di book jukebox è bello è il circolo dei lettori oggi abbiamo inventato il book jukebox allora per i per i meno giovani è perché i ragazzi più giovani se sono ascoltarci ma cos'è il jukebox il jukebox era uno che mettevi 100 lire mettevi y2 uscì si sentiva l'eternità dei camaleonti ma cosa sia l'eternità dei camaleonti ve lo fate spiegare dalla mamma o dal papà allora il andiamo avanti vediamo altri loredana arnone dice un argomento delicato vero vediamo se troviamo altri maurizio amendola 33 questo lo so memoria perché è finito il 33 e lo so memoria perché abbiamo il servizio i medici servizio sanitario nazionale i medici di famiglia è finito con il numero trent dica 33 per caso vi giuro però il numero 33 il servizio sanitario nazionale è fondamentale e lo sapevamo prima e forse quest'anno l'abbiamo capito un po di più e se ansiosi siamo ansiosi l'angoscia purtroppo in tante famiglie in tante situazioni c'è ma ci sarebbe più ansia e più angoscia se non avessimo un servizio sanitario nazionale che cura tutti senza domande prima e senza fatture dopo negli stati uniti parte del problema e della drammaticità oltre a un presidente che meglio perderlo che trovarlo spero che lo perdano fra poco eh c'è il fatto che davanti alla pandemia va a sbattere dritta sul servizio sanitario nazionale quindi la sanità pubblica eh questo è una cosa qui non è sinistra destra in america cercano di fatti passare per un socialista un comunista se dici vive il servizio sanitario nazionale è un'idiozia il servizio sanitario nazionale non è di destra e non è di sinistra è di buon senso è una delle grandi insieme alle pensioni insieme all'istruzione pubblica è una delle grandi conquiste della democrazia del ventesimo secolo ecco se ne avessimo di altre belle conquiste nel ventunesimo sarebbe bene per tutti soprattutto per i meno fortunati tra noi allora quindi questo insomma non c'è neanche bisogno di raggiungere molto c'è bisogno di curarlo il servizio sanitario nazionale non è lì come un 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 oggetto di porcellana che lo li e lo guardi ogni tanto va mantenuto va finanziato va sistemato quando in primavera ci hanno detto i medici di famiglia che è l'altra parte del numero trentatré perché abbiamo servizio sanitario nazionale i medici di famiglia i medici di famiglia sono la porta di ingresso del servizio sanitario nazionale non sono il pronto soccorso e in una pandemia in un'epidemia si capisce molto bene questo che non sono il pronto soccorso per motivi che ormai abbiamo capito tutto sono i medici di famiglia ma vanno messi nelle condizioni di farlo gli vanno dati gli strumenti qualcuno deve ancora spiegarmi perché i famosi tamponi non sono stati affidati ai medici di famiglia io gli ho parlato anche in questi giorni non gli arrivano le notifiche dei positivi ma come fanno a fare il tracciamento eccetera eccetera quindi vedete quando dico non sono un a va tutto bene no non va tutto bene però intanto il servizio sanitario nazionale c'è teniamolo caro e trattiamo le persone che ci lavorano i medici gli infermieri chi guidano un'ambulanza trattiamoli con rispetto non adesso durante la pandemia anche quando la pandemia è finita e paghiamoli per quello che è giusto voi sapete che un medico italiano prende la metà di un medico tedesco e idem un infermiere forse anche un terzo in qualche caso allora mettiamo nelle loro mani le nostre vite se noi pagassimo prendessimo questi benedetti soldi del messe pagassimo i medici e gli infermieri il personale sanitario per quello che merita per il lavoro che fa sarebbe un grande segno di civiltà e forse i ragazzi non andrebbero all'estero io ho due o tre amici amiche sono giovani amiche di torino una una pediatra una lavora in sanità pubblica e se sono all'ascolto sanno che sto parlando di loro e tutte hanno rischiato di andare una rischiato di finire l'inghilterra perché era bravissima una dei più bravi giovani pediatri d'italia dall'inghilterra stavano per pigliarla per fortuna ve la siete tenuta a torino ciao federica andiamo avanti perché ognuno di questi meriterebbe di andare avanti un'ora ma il gioco è un altro allora mi piace sorridere nonostante tutto dice elena marcato alle sei e quarantuno vedete se la recuperate e che il numero cinquanta tra l'altro poi vediamo il numero cinquanta anche barbara dagapiti le piace il numero cinquanta perché sorridiamo nonostante tutto andiamo avanti vediamo diciassette già da gennaio perché è dico l'orario magari vi aiuta alle sei e quarantadue ecco trovato bravissime al circolo del lettore non perdono un colpo perché diciassette perché i nostri figli vedono il futuro e ogni tanto ce lo spiegano per ognuno di questi naturalmente c'è una spiegazione in qualche caso è un racconto anche narrativo per esempio la chiesa per esempio i campi per esempio le case sono racconti questo è una via di mezzo è un po' un racconto un po' un ragionamento questo numero diciassette perché i nostri figli vedono il futuro e ogni tanto ce lo spiegano il lockdown non vi ha fatto capire due cose fondamentali in questa materia non solo che il rapporto che abbiamo con i nostri figli è diverso e secondo posso dirlo perfino migliore di quasi tutta Europa io vedo dei figli ventenni venticinquenni trentenni che hanno un rapporto affettuoso e di discussioni con i padri e le madri della mia generazione io ho avuto un grande papà e una grande mamma ma le nostre vite erano molto diverse e io andavo in America due mesi ma facevo due telefonate a casa non sapevano la nostra musica i nostri libri i nostri interessi i nostri strumenti erano diversi adesso condividiamo tutti da The National a Borat ai Coldplay allo smartphone quindi e l'abbiamo capito perché abbiamo scoperto che si poteva stare in casa insieme in molti casi durante il lockdown guardate che non è ovvio eh secondo me i ragazzi italiani dovrebbero uscire di casa prima e c'è un modo semplicissimo per farlo basta pagarli e i ragazzi italiani quando hanno i mezzi sono ben felici a venticinque ventisei ventisette ventotto di andarsene a vivere per conto proprio però non è che l'affitto lo paghi con le speranze e i sorrisi ma uno dei motivi per cui comunque stiamo in casa un po' di più al di là dei soldi che non ci sono è che i ragazzi italiani in casa ci stanno bene si può dire e i genitori stanno bene con i loro figli arriva un momento in cui la presenza in casa diventa diventa sbagliata in qualche caso patologica se vedi un uomo di quarant'anni in casa col papà e la mamma che che si fa pulire le scarpe e va a fare due pasti al giorno qualche problemino c'è di solito ma un ragazzo di ventisette o ventott'anni ci sta seconda cosa il futuro di questo motivo non abbiamo capito durante il lockdown che i ragazzi conoscono gli strumenti nuovi compreso quello che stiamo usando stream yard go to meetings zoom chi ha messo le nonne su zoom secondo voi chi i nipoti i nipoti sono stati gli istruttori di tecnologia per le due generazioni che li precedono questo è un altro modo di spiegare il futuro le generazioni sono sempre complementari e sono alleate nelle famiglie nei luoghi di lavoro chi non lo capisce non solo è tonto ma perde una grandissima occasione io sono così felice negli ultimi anni passati 50 l'ho anche messo in un testo teatrale che ho portato anche a torino tra l'altro al teatro colosseo si rimane la vita è un viaggio a un certo punto ero sono io bloccato in un aeroporto con due donne più giovani una in particolare molto nervosa la più giovane alla fine facciamo un po pace io le dico guarda che se uno alla fine quasi mi ringrazia perché cerco di rendermi utile in maniera un po goffa il personaggio che interpreto e lei mi dice mi ringrazio io le rispondo marta guarda che se passati 50 uno non arriva a capire che è arrivato il momento di restituire non è un egoista è tecnicamente un cretino e questa è una frase dello spettacolo a proposito saluto marta che vive a torino perché in quella serata del colosseo ha conosciuto un giovane brillante architetto molto bravo un bellissimo ragazzo forza alessandro si sono conosciuti innamorati sposati io li ho sposati in piemonte e hanno appena avuto un bimbo che si chiama adrian che io saluto da qua il suo esordio in video e sono felice mi hanno portato a milano un mese fa lei è venuto aveva il adrian era ancora nella pancia della mamma a luglio sono venuti lui ha fatto l'esordio sul palco ai bagni misteriosi del teatro franco parenti il giovane adria nella pancia della della mamma marta e marta e alessandro mi hanno portato nel baule della macchina la poltrona del teatro colosseo che aveva aveva come sapete qualcuno di voi saprà ha venduto l'arredamento loro hanno comprato una poltrona e me l'hanno regalata per ringraziarmi di averli fatti conoscere è una storia molto bella non è in italiani in noi neo italiani ma avrebbe potuto essere un motivo per essere italiani e anche una storia così andiamo avanti allora papà papà vediamo bello il 12 e simpaticissimo il 22 questo è liliana fragomeni o fragomeni 6 e 54 il 12 è perché molti parlano alcuni ascoltano ma tutti capiscono oggi dovremmo variarla perché uno parla io molti ascoltano perché siete molti lo sto vedendo e che tutti capiate non ho dubbio però è vale per tutta l'italia e tutti gli italiani in generale quando quando è il motivo prima perché quando diciamo parliamo molto diciamo poco quando parliamo poco diciamo molto però diciamo l'intuizione non ci fa difetto ecco questo era il motivo numero 12 numero 22 perché il nord e il sud bisticciano come una vecchia coppia tranquilli non affrontiamo la questione meridionale adesso ma qui parlo di una cosa in particolare del fatto che purtroppo non aver recuperato l'italia del sud come è accaduto in altre parti d'europa che diciamo in germania che hanno l'est è stato lentamente recuperato non ancora del tutto e recuperato vuol dire gli stessi servizi le stesse infrastrutture la stessa la stessa tranquillità la stessa anche lo stesso benessere purtroppo in italia non è ancora così eh e questo è un è un fallimento è un fallimento nazionale di tutti eh dalla sicilia all'alto adige e siamo dentro tutti eh ma ma l'ottimista be safe che sono io pensa anche questo che comunque ci assomigliamo molto più di quello che che i superficiali pensano e dicono e lo capiamo ogni volta che andiamo all'estero due italiani uno di torino e uno di bari uno di aosta e uno di di brindisi si trovano all'estero e si riconoscono immediatamente spesso gradiscono la compagnia reciproca e tutti quanti sanno le stesse cose hanno i 50 motivi valgono per tutti esiste un comune denominatore italiano che spesso gli stranieri sono più bravi a vedere di noi noi lo capiamo in situazioni particolari un po' di disagio magari il viaggio all'estero è quel tanto di disagio che ci permette di concentrarci e dire ehi ma quanto ci assomigliamo ma abbiamo visto la stessa brutta televisione abbiamo ascoltato la stessa radio abbiamo comprato gli stessi giornali abbiamo ascoltato tutti quanti Little Tony Orietta Berti e Giovanotti abbiamo studiato sugli stessi banchi color acquamarina abbiamo siamo saliti sugli stessi treni con gli stessi finestrini con su severamente vietato sporgersi allora queste robe un paese formato da queste cose dal dall'odore dell'aria e dal profilo dalle montagne dalle prime colazioni e dal vino che tra l'altro è un altro dei miei motivi perché il vino è un'educazione sentimentale e visto che dalle vostre parti si fa rosso migliore d'italia questa affermazione la pagherò lo sapete bene però sapete anche per esempio che l'italia è l'unico paese siamo andati sul vino che era un altro motivo è l'unico paese dove tutte le regioni dalla Val d'Aosta alle isole sotto la Sicilia coltivano la vite unico caso interessante andiamo avanti allora 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 bello Stefano Manitto vedo bello il 29 devo andarlo a vedere il 29 perché le piccole chiese sono meglio di certi difensori della fede non intendo parlarvi delle vicende del cardinale Becciu e dell'immobile a Londra e di altre cose che hanno immalinconito e addolorato anzi i cattolici in Italia in questo periodo dico soltanto che anche prima i difensori della fede erano anche un certo modo molto aggressivo di intendere la religione noi e voi la nostro gruppo il vostro gruppo noi non centriamo noi siamo quelli bravi e voi questa roba qua secondo me ma la devozione italiana esiste la religiosità italiana esiste questo ho usato una forma una narrativa non ho fatto un grande ragionamento io non scrivo volentieri di religione perché si viene equivocati o peggio ancora sbandierati il giornalista sbandierato religiosamente non va bene le cose sono anche noi abbiamo cose che preferiamo tenere private ci sta raccontavo ed è forse devo confessare che è uno dei motivi che mi è piaciuto più scrivere e so che è piaciuto a molti più leggere ed è una storia la storia di del vescovo di senigallia monsignor franco manenti che era parroco e poi vicario qua crema nella cattedrale di crema che è letteralmente a dieci metri da dove sono io io confino con la cattedrale qua dallo studio che è diventato vescovo di senigallia mi ha chiesto di andare a condurre un convegno su santa maria goretti che è di corinaldo vicino senigallia sono appena 15 20 chilometri più su e la ragazza era di lì la storia la conoscete se non la conoscete io lo conoscevo poco è una storia lei era andata a seguire il padre bracciante nell'agro pontino ed è stata uccisa e nella prima adolescenza in maniera orribile è diventato un po' il simbolo della purezza cristiana io avevo un po' questa cosa santa maria goretti mi sembrava una sorta di così cosa quasi uno stereotipo noi al liceo dicevamo ai nostri alle ragazze che se la tiravano tutto super tirati pudi che si chiudevano ma dai non fare la santa maria goretti allora poi mi sono vergognato di questo quando ho letto la cosa ho capito quanto eravamo superficiali con questa questa definizione questo modo di dire e viceversa secondo me anche la chiesa che ha sbandierato questa ragazza per una specie di purezza ultraterrena una specie di divinità no era una ragazzina povera che è stata uccisa in casa sua da un vicino di casa che si era invaguito di lei ha perso la testa voleva sedurla e alla fine la uccise con un punteruolo a 12 anni 12 anni e mezzo era era veramente una giovanissima donna ed è morta all'ospedale di nettuno allora io vado e ho detto ma no non possono tempo scusa monsignore don franco signor franco vescovo franco ma non è e poi mi sono vergognato di questa cosa ho capito ho capito che non ho capito niente ho capito la mia coscienza mi ha detto non rompere e vai e sono andato e abbiamo fatto al teatro di corinaldo un in occasione della ritorna delle spoglie di santa maria goretti a corinaldo nel gennaio di quest'anno del 2020 abbiamo siamo andati e c'era un convegno e abbiamo parlato di questo corinaldo c'era la discoteca vi ricordate è stato quello orrendo che sono cadute le balaustre sono morti dei ragazzi quindi un paese provato e abbiamo parlato di ragazzi di ragazze di sessualità di femminicidi quello è stato un femminicidio antelitteram santa maria goretti e e niente alla fine finito verso le undici di sera gennaio immaginate freddo già nelle marche su in collina mi chiedono ma vuoi fare una visita in chiesa appunto c'è la teca con le spoglie di santa maria goretti che tutti chiamano marietta eh da quelle parti e ha detto andiamo ma sarà chiuso non ti preoccupare suoniamo e suoniamo e viene ad aprirci una due suore molto giovani tra l'altro non portavano il copricapo e e mi dicono certo eravamo in teatro ma ci mancherebbe grazie venga e sono rimasto dieci minuti c'era la chiesa illuminata poco c'erano le spoglie di santa maria goretti abbiamo parlato chiacchierato e ho pensato ho detto scusa per aver detto tante scemenze pensato di non dover venire e uscendo ho detto a questa giovane suora mi è venuto dal cuo ho detto ma scusi io non sono un sacerdote non sono un teologo non sono uno storico della chiesa cosa ci faccio qui lei mi ha guardato e mi ha detto ma se marietta l'ha voluta qui un motivo ci sarà allora mi è sembrato che in quella frase che ho messo nel libro ci fosse tutta la devozione italiana la devozione va rispettata la religiosità esiste e va rispettata anche se non credete se diventa superstizione se diventa aggressività è un'altra cosa ma la religiosità italiana esiste e la vedi nelle piccole chiese intorno a crema ne abbiamo tante e io l'ho vista e l'ho capita con chiarezza in quel giorno lì e questo libro per puro caso è stato chiuso in luglio nel giorno della 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 nel giorno dedicato a santa maria gorete che è una roba veramente bizzarra comunque gliela dovevo allora ci manca molto vediamo se arrivano sì abbiamo ancora dieci minuti numero sei col punto di domanda cerchiamo di essere un po più veloci perché nel mondo ti guardano in italia ti vedono cara nora eh ti spiego eh tra guardare vedere c'è una differenza io non l'avevo capita bene riguardo all'italia quando una ragazza vedo dalla foto più o meno dalla tua età se la foto corrisponde a tema immagino di sì durante una presentazione in scozia qualche anno fa si è alzata e mi ha detto che voleva sposare un italiano dice io sono sudafricana ho vissuto in israele ho vissuto in germania adesso vivo in gran bretagna voglio sposare un italiano e io l'ho guardata tanto una bella ragazza e ho detto ma sì penso che non sia un gran problema della verità lei ha ignorato la mia battuta da anziano mas come si dice da anziano signore e mi ha detto e sa perché io sposerò un italiano perché because everywhere they look at you io lì avrei potuto aggiungere un'altra infelice battuta sul fatto che fosse una bella ragazza non l'ho fatto everywhere they look at you in italy they see you e poi ho capito cosa voleva dire voleva dire che 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 noi abbiamo questa capacità di vedere le persone ma non solo le donne giovani o meno giovani gli uomini eh i poliziotti sanno vedere davanti a sé una persona guardate che il rapporto fra un poliziotto un carabiniere italiano è una persona fermata in automobili in italia e in america è completamente diverso non solo perché noi non abbiamo le armi nelle automobili quindi anche il rapporto è un po più tranquillo perché in america c'è una regola c'è un protocollo c'è un due è un numero tu sei un numero la macchina un numero quello è il rapporto in italia spesso diventa una pièce teatrale questo che qualche volta è sbagliato qualche volta è eccessivo ma perfino quello i gli insegnanti bravi non parlano alla classe parlano alle persone perché le vedono la gente ti vede perché hai capelli troppo bianchi scusate c'è la luce proprio su perché hai eh perché non sei bello è il mio caso perché sei bello perché hai la cravatta strana perché non hai la cravatta perché hai capelli lunghi perché hai la barba perché hai ma la gente ti vede questa capacità italiana di vedere le persone è formidabile teniamocela da conto allora andiamo io sono sempre preoccupato di tirarla troppo lunga però forse ancora qualche minuto finiamo diciannove venti dai diciannove dodici finiamo diciannove venti eh allora andiamo avanti Elena De Toma mi interesserebbe il diciannove perché vogliamo fare bella figura ma sappiamo farci anche una bella risata eh bella sulla bella figura c'è su questo fatto che che nel nostro buono comportamento ci sia un aspetto teatrale noi siamo più bravi nei bei gesti concetto estetico bei gesti e non abbia e un po' meno nei buoni comportamenti che non sono buon buoni concetto etico che non sono una successione o la somma aritmetica di tanti bei gesti sono un'altra cosa però nei nostri bei gesti c'è proprio un aspetto estetico noi quando ci comportiamo bene ci piace l'idea di noi stessi che mentre ci comportiamo bene quasi ci vediamo dall'esterno c'è una stanno sdoppiamento se Elena con cui sto parlando fa una gentilezza a un amico un'amica un collega e sono sicuro che De Toma che è il perché si stacca da Elena va in alto guarda la scena scende e si complimenta De Toma dice a Elena brava Elena bella hai fatto una bella figura e Elena lo sa vale per Beppe vale per tutti quanti allora un paese che così non ti aspetti che sappia anche farsi una bella risata siamo un paese che ha conservato una capacità auto ironica e fondamenta autocritica guai se diventiamo autolesionisti ma la capacità di ridere di noi stessi l'abbiamo in maniera notevole e questo secondo me è una bella sana cosa potrebbe andare avanti a molto a lungo anche perché la bella figura era il titolo in America del mio libro la testa degli italiani quindi potete immaginare quanto ci ha ragionato su queste cose ma dovete prendere i neo italiani ve lo faccio vedere ok andiamo avanti poi il 19 l'abbiamo visto vediamo Angelina preziosi un po prima 653 voleva il numero 14 perché quando parliamo poco diciamo molto e viceversa sai cosa l'ho accennato prima ti racconto su questo numero 14 motivo numero 14 perché quando parliamo poco diciamo molto e viceversa qua e questo anche questo è un piccolo racconto anche breve ero in Cina proprio in questi giorni intorno alla l'ultima settimana di ottobre del 2019 quando cosa fosse il coronavirus non lo sapeva nessuno o meglio se qualcuno lo sapreva in Cina non ce l'hanno detto peraltro sono andato stato bene sono tornato indietro io ho fatto Pechino Hong Kong Shenzhen no Pechino Guangzhou Shenzhen Hong Kong e la settimana della lingua andavo a parlare dell'università e ho fatto un corso di monosillabi ho spiegato guardate ragazzi ai cinesi in italiano lentamente o in inglese o con l'aiuto della professione guardate che l'italiano non è solo le parole i verbi la grammatica la sintassi il lessico ci sono anche delle parole piccole che sono molto molto indicative tra è e è c'è una grande differenza e se voi non capite la differenza fra è e è non capite la differenza tra o e o ma e gli ho spiegato cosa volevano dire queste interiazioni questi questi monosillabi e poi facciamo le prove bellissime vedere 300 studenti cinesi erano a lingue sono in particolare ragazze quindi erano quattro quinti giovani cinesi ragazzine cinesi diciotto diciannove anni allora pronti li facevo fare o e loro o e e ma e loro ma è bellissimo tra l'altro i cinesi ci pigliano coi toni quindi erano anche piuttosto bravi ecco questo è un modo per dire quando parliamo poco diciamo molto andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti vediamo se ce ne sono degli altri vediamo barbara d'agapiti sembra mi dice mi ha visto teatro a a perugia penso parlasse della vita un viaggio eh maria casilli non leggo perché sennò arrossisco grazie eh vediamo 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 se ce n'è ancora qualcuno vediamo non vorrei ripetere il 31 l'avevamo fatto ah perché abbiamo la scuola pubblica l'ultimo frullatore nazionale dai lo usiamo come penultimo l'ultimo lo scelgo io eh di nuovo la scuola pubblica è una conquista non è di sinistra non è di destra è di tutti e cara grazia che c'è la scuola pubblica va protetta eh e un modo di proteggerla era far sì che tutti i ragazzi potessero andare a scuola eh non voglio mettermi a fare polemiche politiche era evidente che questo sarebbe stato un un punto molto delicato però secondo me se invece di discutere dei banchi a rotelle non fatticimi pensare quello è il bonus monopattino sono cose che ricorderò allora i banchi a rotelle avessimo pensato ma perché i ragazzi delle superiori che sono grandi e possono tranquillamente al mattino stare a casa da soli o magari vedersi tra di loro studiare insieme non li mandiamo a scuola al pomeriggio così spostiamo dai mezzi di trasporto di tutta Italia moltissime persone al mattino perché io lavoro a Milano e a Milano ma sono certo anche a Torino anche a Vercelli anche a Asti e anche a Novara e anche a Cuneo e dappertutto i ragazzi delle scuole superiori si uniscono ai ragazzi delle medie si uniscono ai ragazzi elementari un po' meno perché li portano magari i genitori si uniscono alle persone che vanno a lavorare negli uffici e creano quegli assembramenti che non lo dico io ormai sembra esserci un'animità tra le persone che si occupano per mestiere di questo sono il vero grande problema perché nessuno ha detto scusate andare magari al pomeriggio non ditemi che è per i sindacati della scuola che non ci credo non ci posso non ci voglio credere però qualcuno dovrebbe spiegarmi perché e a proposito di futuro guardate che molti insegnanti che molti sono stati eroici fare lezione dalla distante è difficile anche i ragazzi sono stati eroici li abbiamo portato via a questi ragazzi tutta la parte divertente della scuola stare insieme stare lontano un po' dai genitori socializzarsi vedersi fare amicizia magari innamorarsi più avanti allora e le abbiamo lasciato la parte rognosa studiare interrogazioni non è proprio che hanno fatto un grande affare quest'anno però anche i professori quelli che ci hanno provato sono stati bravi qualcuno sono certo anzi so se è defilato in vario modo ma la grandissima maggioranza ci ha provato e come e di nuovo ha avuto come insegnante spesso il proprio allievi perché gli allievi conoscono bene gli strumenti io so di tanti insegnanti che hanno detto sentite un po' come si fa la didattica a distanza e gli allievi hanno spiegato agli insegnanti come insegnare che mi sembra una bellissima storia italiana io spero di non avervi depresso ulteriormente sono giornate impegnative avrei voluto essere con voi e ricordarvi che il numero 50 che è perché sorridiamo nonostante tutto io adesso vi lascio vi saluto mi alzo e devo dire che ogni volta che vengo a Torino il mio cuore nerazzurro si fa sentire e quindi vi lascio con una cosa che fino adesso non avete visto che era dietro di me ma come si fa se fossi stato al circo dei lettori un luogo così bello avrei fatto così sarei uscito di lato lo faccio anche adesso Torino ci rivediamo di persona presto e grazie di essere stati con me è stato veramente per me è molto bello mi illudo anche per voi dietro di me grazie 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 a tutti